Una commissione di teologi per studiare i fenomeni speciali di Rapunza al fine di arrivare presto ad ottenere il via libera della congregazione della fede per poter aprire l'indagine diocesana sulle virtù eroiche della nostra mistica. Determinato e risoluto, così appare il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea durante la celebrazione eucaristica nell'ottavo anno dalla morte della mistica di Paravatina, Tuzza Evolo. Il piazzale antistante del santuario, al centro della fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, è una distesa di fedeli che in silenzioso raccoglimento ascolta l'annuncio del vescovo. La causa di beatificazione di Natuzza verrà riavviata in tempi brevi, assicura Monsignor Luigi Renzo. Prende un impegno con la platea di fedeli, il presule, dalle preghiere, dai volti delle centinaia di pellegrini accorsi a Paravati. Le polemiche degli ultimi mesi sembrano lontane anni luce. Ricordo che ho di mamma Natuzza da viva e che ho avuto l'occasione proprio di avere un contatto fisico. È stato nella mia prima gravidanza di mio figlio. Lei mi ha abbracciato, mi ha baciato e mi ha detto stai tranquilla che hai una creatura sana. Essere qui è una cosa meravigliosa. Per mamma Natuzza, per noi è una mamma e la Madonna. Una testimonianza in particolare, davvero ha avuto un figlio con dei problemi, veramente dei problemi. E lei, le cose che mi ha detto sono state veramente un miracolo. È stato veramente successo un miracolo con lui. Loredana Colloca per la CNews24. E i cenacoli di Natuzza si sono presentati alla funzione religiosa con uno striscione. L'allusione è chiara e va al cuore delle polemiche sui tempi lunghi per la consacrazione della Chiesa. Noi eravamo abituati a pregare, quindi oggi stiamo pregando. Però è una richiesta precisa. Non privateci dell'eocarestia. L'eocarestia non si lega a nessuno. Solo questo voglio dire. E' possibile che dopo tanti anni ancora questa Chiesa non può accogliere una messa in onore di mamma Natuzza? Poi ci sarà. Quando c'è in ballo una santità c'è l'aspettare da tribolare. Noi siamo qua figli spirituali che stiamo soffrendo per questa cosa. Vuol dire che invece di Beate si farà subito santa, perché per me Giallo è santa mia madre. Lei è mia madre. Lei non è calabrese. Sono napoletana. E i cenacoli di Natuzza sparsi in tutta la campagna. Questa è tutta la campagna messa insieme. E' d'obbligo una domanda. Quest'estate ci sono state delle frizioni, in qualche modo un dialogo serrato tra la fondazione e la diocesi. Cosa pensa ora? Io non penso niente. Penso solo di pregare in questo luogo. Voglio venire semplicemente a pregare, perché la mamma Natuzza diceva prega e fai pregare Anna. Quindi detto questo ho detto tutto. Non ce l'ho con nessuno io. Solo che vorrei venire qua e trovare la pace che ho trovato sempre. Eh, per carità, l'Eucharistia non si può negare a nessuno. Il Signore è per tutti. Eh, certo bisogna essere pronti a saper accogliere l'Eucharistia. Agostino Pantano per la C News 24. Omissione d'atti di ufficio, interruzione di pubblico servizio e abbandono di incapaci. Queste le accuse che la Procura di Locri muove nei confronti del Direttore Generale dell'ASPO di Reggio Calabria, Giacomino Brancati, e del Direttore del Dipartimento Aria Ospedaliera, Domenico Calabrò, a cui sono stati notificati due avvisi di garanzia. Ai due sono contestati tutta una serie di atti e omissioni che non avrebbero garantito, secondo l'accusa, i livelli essenziali di assistenza nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri e nel nosocomio di merito portosalvo. In particolare, a note il sostituto procuratore Locrese, da ottobre 2014 a settembre 2017 non c'è stato alcun provvedimento di tipo organizzativo o gestionale, volto a risolvere la criticità e quindi assicurare le urgenze ortopediche e attivare il percorso assistenziale del politrauma. E poi ancora, se riuscite addirittura, con non comune incapacità professionale e gestionale, sostanzialmente ad azzerare due strutture sanitarie che chiunque possiede una normale conoscenza del territorio non può che valutare di assoluta importanza. Nelle carte l'accusa compie un approfondito escursus degli episodi registrati sulla questione negli ultimi tre anni, che avrebbero determinato il progressivo impoverimento di risorse umane dei reparti di ortopedia, tali da non riuscire a garantire ai pazienti il servizio minimo. Da Locri per l'AC News 24. 13 anni di attesa per una visita dentistica nel poliambulatorio di Soriano, 4 anni per una biopsia della tiroide all'ospedale di Vibo, 6 anni per un'ecografia ostetrica atropea, praticamente quando ormai il nascituro dovrebbe già andare in prima elementare. Sono soltanto alcuni esempi dei clamorosi tempi d'attesa che sino a ieri l'azienda sanitaria della provincia di Vibo diffondeva attraverso il proprio sito web, gettando nello sconforto quei cittadini in cerca di informazioni sulle prenotazioni di esami e visite mediche. Un errore tecnico, secondo la direzione dell'ASP, un errore lungo 67 pagine, tante quante ne contava il documento che adesso è stato rimosso dal web. In puro burocratese, la giustificazione offerta dai piani alti del presidio sanitario vibonese che ha imputato l'errore al solito abbaglio del sistema, come dire non è colpa nostra, è la tecnologia che rema contro. L'ASP ha assicurato comunque che presto i dati saranno aggiornati e ripubblicati correttamente. Non è possibile negare però che ci sia un problema reale nelle lunghe attese imposte ai pazienti. Così la pensa l'ex primario di ortopedia dell'ospedale di Azzolino, Michele Soriano, che ha inviato una durissima lettera al presidente della regione Mario Oliverio, allegando una serie di prenotazioni record con certificati per visite ortopediche regolarmente fissate anche a quattro anni di distanza. Nella sua missiva, Soriano, oggi in pensione, ha denunciato l'immobilismo dei vertici dell'azienda sanitaria che a suo dire avrebbero rallentato gli effetti di un concorso già espletato che consentirebbe di assumere tre nuovi medici e di alleggerire il carico di lavoro nella struttura. Enrico De Girolamo per la CNews24. Sono numeri che fanno ben sperare, quelli diffusi nel corso di una conferenza stampa dalla Direzione Generale dell'ASP di Crotone sull'attività svolta dalla Stroke Unit, l'unità operativa che fronteggia i casi di ictus, allestita presso il reparto di neurologia dell'ospedale San Giovanni di Dio. 55 pazienti trattati, ricordiamo la Stroke Unit è una struttura deputata al trattamento dei pazienti con stroke ischemico entro le quattro ore e mezza, rappresenta ancora al momento l'unica terapia realmente efficace per ridurre la mortalità e la disabilità al residuo. L'apertura di questo servizio sicuramente ha inciso moltissimo in quella percentuale di malattie cardiovascolari e in questo caso di malattie vascolari che colpiscono la parte più importante che è il cervello. Quindi quelle limitazioni dopo questo evento sono molto ridotte con l'utilizzo della trombolisi. Stroke è la principale causa di disabilità. Dopo i 65 anni il rischio aumenta soprattutto negli uomini. Le unità stroke sono dunque in grado di ridurre la mortalità e l'invalidità causate dalla malattia attraverso una terapia specifica alla trombolisi eseguita entro tre ore dall'inizio dei sintomi. Antonella Marazziti per la CNews24. C'è stato un grande segnale di attenzione, ma concreto ieri, perché a un certo punto della giornata, nel primissimo pomeriggio, è arrivato proprio nel mio ufficio il capo di gabinetto del Presidente Oliverio Gaetano Pignanelli con il vice capo di gabinetto Carmela Barbaraccia proprio per conto del Presidente, i quali mi hanno comunicato che uno, la diga è stata inserita nelle grandi opere a livello nazionale, due, concretamente faremo un tavolo tecnico lunedì mattina, che era quello che noi chiedevamo per sviluppare tutte le iniziative dal punto di vista tecnico riguardo alla diga, tre, la problematica che io ho sollevato per quello che mi riguarda la stessa importanza della diga, è il lavoro dei nostri 36 operai stagionali che da tre anni per mancanza di fondi non possono lavorare. Io ho dichiarato solo di aver sospeso lo sciopero, io voglio che tutti sappiano che se le cose non vanno a buon fine io riprenderò lo sciopero della fame e della parola così come annunciato. Nella delibera di Palazzo dei Bruzzi contenente la nuova toponomastica cittadina spunta anche il nome di Giorgio Almirante, lo storico segretario del Movimento Sociale Italiano è una figura controversa della politica del Novecento. Fedele ai valori della destra, Almirante, scomparso nel 1988, aveva un legame consolidato con Cosenza, dove ha tenuto diversi comizi molto partecipati. La decisione dell'amministrazione comunale ha fatto sobbalzare dalla sedia il capogruppo in consiglio del Partito Democratico, Damiano Covelli. Quella di Giorgio Almirante è una scelta inquietante. partecipò alla Repubblica di Salò e mai ne fece ammenda. Nel 1938 partecipò al manifesto, firmò il manifesto contro le razze. Lui stesso ordinò l'uccisione di tutti i partigiani catturati. A Cosenza Almirante era spesso ospite di Benito Falvo, il figlio del deputato Fabrizio, da qualche tempo ritiratosi dalla politica attiva, ha personalmente conosciuto lo storico segretario Missino. Io ricordo un libro di Giorgio Almirante che si intitolava Autobiografia di un fucilatore. iniziava così. Il titolo di questo libro è doppiamente bugiardo perché questa non è un'autobiografia e io non sono un fucilatore. Almirante è stato l'esempio in politica della onestà, non solo intellettuale ma anche materiale. Il dibattito tuttavia non entusiasma i cosentini. La decisione è stata accolta con una certa indifferenza e poi si sa, il nome di una strada non si nega a nessuno. Lo intessano a tante persone l'intitolo, va bene anche ad Almirante. È un bel gesto che fanno, sempre stato un vero politico. L'ha indetto l'anno a tutti, ci mancherebbe. Io sono contro i fascisti. Sono per un... cioè ho delle idee più progressiste quindi non sono molto d'accordo. Salvatore Bruno per la Cineuse 24 La prefettura ne chiede la decadenza ma ancora non ha prodotto alcun provvedimento. Così Pasquale Brizzi per ora non decade e il Consiglio Comunale di Sant'Ilario dello Ionio rimanda a Piazza Italia ogni decisione in merito chiedendo alla prefettura l'accesso agli atti. Brizzi, già sindaco nel febbraio 2012 quando il Comune venne sciolto per mafia aveva presentato ricorso in merito al provvedimento di incandidabilità sulla sua persona tra l'altro giunto a elezioni ormai avvenute e quindi, a suo dire, con tempistiche anomale. La Corte di Cassazione lo scorso luglio ha rigettato il ricorso del sindaco confermando con sentenza definitiva l'incandidabilità in relazione a tutte le elezioni indette per la prima tornata successiva allo scioglimento. Aspettiamo che sia più chiaro il percorso all'interno di una cornice di diritto e se è il caso, con un percorso chiaro io sarò il primo a dimettermi senza nessun tipo di sospensione anche perché non mi va di fare muro contro muro con nessuno e a maggior ragione nel rispetto dei cittadini e del matri che mi hanno dato non mi senso di tenere impantanato un ente nel momento in cui invece c'è da lavorare seriamente per la cittadinanza visto il momento particolarissimo di crisi e quindi nel momento in cui avevo la certezza del diritto io sarò il primo a dimettermi senza rimanere in carica e come ho detto prima a rimanere in una posizione che non sappiamo domani cosa succede. Ilario Balì per la Cineus 24 Qual è lo stato di salute degli edifici scolastici della provincia di Catanzaro? Per quanto riguarda la certificazione antisismica solo il 4% degli edifici è a norma corrisponde a circa 263 edifici non hanno questa certificazione e cosa più preoccupante è anche il certificato di agibilità 9 su 10 non hanno il certificato di agibilità come dirigenti scolastici essendo gli unici responsabili della sicurezza ci siamo posti il problema Nasce per questo motivo il coordinamento Scuole Sicure che coinvolge 54 dirigenti scolastici della provincia di Catanzaro su un totale di 58 L'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro ha ospitato il primo incontro dal quale i dirigenti lanciano un messaggio chiaro Noi vogliamo la responsabilità ma gestionale e organizzativa degli edifici non certamente quella strutturale che deve essere data agli enti locali Ma non finisce qui è infatti in programma per il 6 novembre alla Mezzia Terme un incontro con i parlamentari calabresi Del problema sono stati investiti anche i comuni e la provincia di Catanzaro Qual è stata la risposta? Noi abbiamo inviato ai comuni e alla provincia il giorno 2 ottobre in modo coordinato abbiamo chiesto tutte le certificazioni sulla sicurezza delle scuole Bene, allo stato attuale, almeno le notizie che ho io, nessuno ha risposto Noi faremo una mappatura di tutti gli edifici presenti nella provincia di Catanzaro per avere anche la contezza di tutte le certificazioni che vorremmo porre in un tavolo di lavoro con Anci, UPI, Regione Calabria e Politica Altrimenti noi il prossimo anno a settembre, prima di aprire le scuole gireremo il tutto al prefetto e deve essere poi il prefetto a dirci se le scuole possono essere aperte o devono essere chiuse Rossella Galati per la CNews24 Un saluto in lingua greco-cala, bra per esprimere l'orgoglio di una comunità che mantiene ancora viva la cultura della Magna Grecia e tiene a valorizzare anche le tradizioni del più recente passato Non poteva essere diversa l'accoglienza del sindaco di Bova, Santo Casile al presidente Oliverio in occasione dell'inaugurazione di due importanti strutture volte a rilanciare il comune aspromontano Ristrutturato l'ex ospedaletto dei poveri del 1700 sarà destinato a polo di continuità assistenziale di servizi sociosanitari nell'area grecanica mentre il borgo dei mestieri sarà un percorso didattico e esperienziale sugli antichi laboratori artigianali Per la regione il doppio taglio del nastro è dimostrazione del percorso già attivato per il contrasto allo spopolamento dei centri grecanici partendo proprio da Bova, uno dei borghi calabresi più belli insegnato dal Ministero del Turismo del titolo di gioiello d'Italia Erika Cunzolo per la CNews24 La quarta edizione è della festa del cinema di La Mezzia quest'anno siamo riusciti ad essere ammessi ai finanziamenti europei e regionali con noi insieme ai vacantussi di Nico Morelli e quindi ci ripresentiamo con la nuova edizione con un parterre ospiti ancora più grande 25 film in 5 giorni cadenzati in 5 sezioni stilistiche Manca poco l'apertura dei battenti della Mezzia Film Fest che dal 14 al 18 novembre porterà al Teatro Grandinetti un fitto cartellone di pellicole ma anche ospiti e mostre Avremo il grande regista new yorkese Abel Ferrara e anche tantissime bellissime attrici e brevissime attrici del panorama italiano come Valentina Lodovini, la protagonista di Benvenuti al Sud Enrica Guidi, protagonista dei ritti del Barlume su Sky e anche Donatella Finocchiaro, una delle attrici più intense del nostro panorama Appuntamento dal 14 al 18 novembre al Teatro Grandinetti Tiziana Bagnato per la CNews24 Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie La CNews24 anticipa l'informazione L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15 La CNews24, la Calabria che fa notizie